Le dispiace spiegarsi, per favore. Come si può complicato, lasci perdere. Insomma, Fausta, si può sapere cos'ha contro mio padre stamattina? Gliela porti lei oggi, la colazione. Non capisce. Tanto per farglielo sapere. Ah, mira. Suo cibile. Uno ce l'ho io, uno lei e uno suo padre. C'è solo un'altra persona che ha le chiavi di casa. È quello che dico anch'io. Chiude bene, si sente tutto. Povero signor Godo, non crederà mica che le dica queste cose per cattiveri. Non dirmi, povere, non... Cesso. La farò lavare. Che cosa gli porto adesso a suo padre? Dagli il mio. Allora sa che le dico, quasi quasi.